Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del miglior rep range per l'ipertrofia, ossia quante ripetizioni devo fare per l'ipertrofia. Normalmente si dice che il rep range ipertrofico è tra le 8 e le 12, quindi tu se fai 8-12 reps, allora stai all'interno del rep range ipertrofico e sono le migliori ripetizioni da fare per creare ipertrofia. Parzialmente è vero e vedremo perché, parzialmente non è vero e vedremo perché. Quindi alla fine di questo andremo a vedere la regola aurea per sfruttare al massimo il rep range ipertrofico. Qual è veramente il rep range ipertrofico? Allora, partiamo subito. Perché si dice che 8-12 rep range ipertrofico? Per un discorso relativo all'attivazione di unità motorie, principalmente. Ossia, quello che si è visto è che le unità motorie si vanno ad attivare a diverse soglie e quelle che portano ad adattamenti ipertrofici maggiori sono quelle ad alta soglia, quindi che si attivano soltanto a soglia più alta, che noi normalmente abbiamo con cariche abbastanza importanti, quindi almeno 8-12 reps, quindi non andare su carichi troppo bassi, bla bla bla. Ora, questo discorso delle unità motorie è parzialmente vero. Perché? Innanzitutto non è un discorso percentuale. Le soglie si basano su Newton, o nel caso in cui consideriamo il momento di forza, il Newton per metri, però Newton. Quindi è un valore assoluto. Cioè io, più o meno da questo carico, questo range di tensione, si attiva. Che cosa vuol dire? Che quei range di tensione per un neofita sono carichi importanti, ma per un avanzato sono carichi molto molto semplici. Quindi nel momento in cui l'atleta inizia a diventare forte, inizia a diventare avanzato, questo discorso delle attivazioni delle unità motorie cambia. Abbiamo bene o male un'attivazione delle unità motorie abbastanza completa su qualsiasi tipo di lavoro, anche quando lavoro sulle 30-40 reps perché saranno carichi importanti, di nuovo per un avanzato, abbiamo una firing rate ottimale su tutto questo tipo di lavoro, ma soprattutto c'è un altro discorso. Ossia, la soglia di attivazione delle unità motorie si abbassa, quindi queste si attivano quasi subito, nel momento in cui sto vicino al cedimento. Quindi nel momento in cui c'è un accumulo di ionicalcio nel citoplasma, nel momento in cui c'è tanta fatica, nel momento in cui la ripetizione è, la concentrica, la fase concentrica della ripetizione è involontariamente rallentata. Cioè io spingo, voglio andare veloce, ma questa sale è lenta, l'avete provato tutti quanti. Ecco, quando succede quello, automaticamente c'è un'attivazione di tutte le unità motorie. Questo è il motivo per cui negli studi poi andiamo a vedere che se lavoriamo con bassi carichi, purché si arrivi al cedimento, quindi si arrivi a questo grado di fatica, in realtà abbiamo una risposta ipertrofica ottimale, indistinta. E questa è una delle cose che la scienza ci sta confermando, cioè, bene o male, il cedimento sembra essere il punto di partenza per ottenere buoni risultati ipertrofici. Soprattutto se lavoriamo con carichi tendenzialmente bassi, questo nell'offita, ma come detto nell'avanzato, bene o male, si attiva tutto quanto insieme. Ora, questo insieme poi a un discorso di tensione meccanica, quindi capacità di generare tensione meccanica, ci porta a dire che il reprengio ideale è tra le 8-12 ripetizioni. Ma come ho detto, in realtà, questo è parzialmente vero. Perché è parzialmente vero? Perché in realtà, quando andiamo poi nella pratica, quindi usciamo dal laboratorio, andiamo nella pratica, quello che vediamo è che, quando parliamo di bodybuilding, non si può lavorare troppo sulle basse ripetizioni, perché avrò poco tonnellaggio, molto stress neurale e soprattutto io non sto lavorando l'alzata. Non sto cercando di lavorare l'alzata, sto cercando di creare un certo tipo di stimolo a livello muscolare e per creare quello stimolo, per ottimizzarlo, io avrò bisogno di un certo quantitativo di volume, dove il volume nel bodybuilding non deve essere inteso come numero di serie allenanti. Questo l'abbiamo già toccato parzialmente e l'abbiamo toccato meglio su Instagram, quindi non perderti nessuno dei reel su Instagram. E ricorda di seguirci dappertutto, quindi qua su YouTube, su Instagram, su TikTok, ludovico.alm. Segui, mi raccomando, spollicia, non fare il pollicione piccolo. Quindi abbiamo bisogno di un certo amore di lavoro inteso come effective reps, ripetizioni efficaci, cioè quelle ripetizioni vicine al cedimento. Ho bisogno di tante, se io faccio sempre una singola o massimale, ora lavoro sulle due o tre ripetizioni, avrò poco volume, avrò tanto stress neurale perché utilizzerò dei carichi importanti. Quindi per questo ci si sposta più sulle 8-12. In più, utilizzando esercizi isolamento, utilizzando compound, vado a intervenire in un punto, in un meando, quello dell'8-12 reps, mi utilizzo dei carichi che mi permettono di lavorare molto meglio a livello proprio scettivo, a livello di connessione mente-muscolo, dei carichi che mi permettono di lavorare meno a livello sistemico. E questo è altrettanto importante. Quindi, quello che si è visto è che nella pratica, poi, lavorando su questo range, che è un range in cui ho dei buoni carichi, ma non sono neanche troppo alti, sto ottenendo e ho, meno male, per il neofita, l'intermedio, eccetera, il miglior compromesso per creare ipertrofia. Poi, in realtà, 8-12 può essere anche un 5-10, può essere, insomma, un rep range medio. In base ai carichi del soggetto, più la persona è forte, più magari questo range si alza, più la persona è debole, magari stiamo più sulle 6-8 o qualcosa del genere. Ora, ciò detto, l'altro discorso del Vanseritech, quando parliamo di bodybuilding, abbiamo bisogno di diversi meccanismi di adattamento, quindi non c'è soltanto la tensione meccanica, che abbiamo anche uno stress metabolico e il danno muscolare, discorso ampissimo che non tocchiamo, però aggiungiamoci pure un'altra cosa, che serve andare a dare un certo tipo di stimolo metabolico affinché ci sia una ipertrofia più completa, cioè lo stress metabolico, come anche il danno muscolare, ma soprattutto lo stress metabolico, è accessorio, è un driver, è un potenziatore di quello che è lo stimolo meccanico. Quindi per questa ragione stare troppo bassi di ripetizioni, quindi caricare troppo, ci toglie del tutto questa componente e quindi va a compromettere quelli che sono poi i nostri risultati, o meglio, va a non ottimizzarli, ci permette di ottimizzarli. Quindi per il neofite all'intermedio stare sul range di ripetizioni che è più o meno medio è sicuramente molto più vantaggioso. Ciò detto succede qualcosa poi, quindi neofite all'intermedio 8-12 reps è sicuramente un range ipertrofico ottimale. Da qua succede qualcosa, quindi c'è un altro passetto che dobbiamo fare. Il passetto che dobbiamo fare sta nell'analisi dell'architettura muscolare, ossia io voglio un attimo uscire da tutto quello che è il discorso del resistance training, quindi l'allenamento per l'ipertrofia accademico studiato, e voglio un attimo portarvi in quello che è il mondo del bodybuilding. Mondo del bodybuilding dove io ho semplicemente non uno studio con delle analisi, con un'elettromiografia, con un esame istologico, no, ho un bodybuilder, un soggetto che sale sul palco e che deve essere valutato a occhio, così a impatto, in cui devo valutare quanto è grosso, devo valutare la pasta, la densità muscolare, devo valutare il tiraggio, devo valutare il pump che ha un certo grado di vascolarizzazione, cioè ci sono tanti elementi da valutare. Allora qua il discorso è molto più complesso, perché quando inizio a ragionare su quella che è l'architettura muscolare, non c'è soltanto sarcoplasma o inferbilla, ma inizia ad esserci un discorso di IMAT, quindi trigliceridi intramuscolari, un discorso di glicogeno muscolare, quindi la capacità del muscolo di sovracompensare il glicogeno, che possono esserci dei delta di 20, 30, 50 millimoli per chilo di muscolo di sessuto magro. C'è un discorso di mitocondrogenesi, quindi di ipertrofia mitocondriale, che logicamente è tutto quel discorso che si può fare solo in off-season, perché in un ambiente di surplus calorico si creano nuovi mitocondri a questa ipertrofia. Però poi nel momento in cui vado a tirarmi, il tessuto muscolare specifico si tira meglio, quindi tutti i lavori metabolici che normalmente si fanno per le gambe in off-season, e poi quando vado a tirarmi sul ginoide le gambe sono effettivamente più dry. Quando vado in un discorso di bodybuilding mi si apre tutto uno scenario. E allora gli strumenti che devo andare a utilizzare in una fase di off-season per il range ideale per l'ipertrofia, sono tantissimi, diventano molti vari. E praticamente ci sono tantissime operazioni che posso fare. Si complica, non è che posso fare tutto, non è che tutto fa brodo, alleno tutto, faccio questo, faccio quest'altro. Deve essere tutto fatto con logica, deve essere indirizzato. Però anche qua, quello che io devo fare adesso per voi è darvi una regola. Cioè Ludo, ok, perfetto, è tutto super complicato, noi abbiamo i corsi su Renonation dove ne parliamo, abbiamo l'Academy, però quale può essere la regola che io tiro fuori, su cui possiamo ragionare, ok? Ragiona, ragiona, qual è la regola? Beh, quello che vi dico è che nel momento in cui la data diventa un po' più avanzato, quindi un po' più forte, i carichi sono importanti, e quindi anche lavorare con carichi troppo alti, per troppo tempo continuativo, tutto l'anno aumenta il rischio di infortuni, e inevitabilmente il rischio di usura, perché allo lungo a questo sport abbiamo anche un'emivita, una carriera, tutti noi, per quanto la forma può essere precisa, possiamo essere maniacali, comunque il sovraccarico che c'è, l'overload sulle nostre strutture, a un certo punto si sente, quindi dobbiamo limitarlo. Allora, in questo caso, quello che succede è che il mio reprange, che era questo, ok, 8-12, 6-8, quello che vi pare, inizia a fare questo, cioè inizia ad aprirsi e ad accogliere lavori molto più metabolici, che sono quei lavori che mi portano a più consumo di glicogeno, e quindi maggior attività della glicogeno sentasi, maggior lavoro di scarica e ricarica, che porta a una sovracompensazione importante, sono quei lavori, quando vado molto sull'endurance, che mi portano all'unito dello stoccaggio dell'IMAT muscolare, sono quei lavori che mi portano all'unito contro genesi, e iniziano ad accogliere, quindi, questo, facciamo il 6-12, ok, 6-12 inizia a diventare 6-15, inizia a diventare 6-20, inizia a diventare 6-25, 6-30, 6-40, ovviamente non su tutti gli esercizi, non su tutti gli stretti muscolari, ma inizia ad essere molto più aperto. A questo ci aggiungo anche un'altra cosa, ossia, bisogna capire che esercizio sto facendo, bisogna capire che muscolo sto allenando, perché io per allenare un muscolo non posso, fin qui abbiamo ragionato, no? Vado a dare quest'input, vado a dare questo stimolo, vado a dare questo carico, ma io per dare questo carico, che cosa devo fare? Devo fare un esercizio, devo utilizzare dei tools, degli strumenti, degli esercizi, e logicamente potete capire che un 6-RM su uno stacco, lo sento in un modo, un 6-RM su delle machine flies o su delle croci e cavi, lo sento in un altro, cioè, un 6-RM con delle croci e cavi, non riesco neanche a farlo. Io, personalmente, una leg extension sulle 15 ripetizioni, bene o male la max ho quasi tutte le leg extension nella palestra e lavoro l'ultraflex, cioè, sto all'ultraflex, ma non all'ultraflex nella palestra, che ha tantissime leg extension, tantissimi macchinari professionali, insomma, non stiamo parlando di macchinette un po' così, quindi capite bene che là bisogna iniziare a capire. Quindi, allora, il quadro diventa molto più completo e complesso. Allora, qual è la regola che possiamo elaborare? Beh, la regola è molto semplice. Questo è il mantra che ti devi studiare, che devi imparare. Diventa, come obiettivo tuo, fottutamente, ridicolmente forte su ogni cazzo di reprange utile per ogni esercizio. Easy. Questa è l'ipertrofia. Questo, caro mio, il tempo diventa l'ipertrofia. Che cosa vuol dire reprange utile? Che in uno stacco non posso fare 50 rep, o meglio, io ci sono andato vicino a fare lavori del genere, mezzi da folli. Però comunque, realmente, magari, sulle machine flies sto reprange un filo più alto, su degli esercizi che richiedono maggiore stabilità sto sui reprange più alto, esercizi che sto con un miglior bracing, una maggiore stabilità, magari reprange più basso, esercizi che sento fastidio articolari sto sui reprange più alti, esercizi che mi sento molto sicuro e posso andare e sono forti reprange più bassi, eccetera, eccetera. Quindi, contesta, però, tutto quello che è utile in una rosa di stimoli molto più ampia, periodizzata, ovviamente, e questo magari parleremo in altri video, in una certa maniera, però il tuo obiettivo nel lungo periodo, quindi non in questa fase specifica, ma nel lungo periodo, periodizzata al momento giusto, è diventare fottutamente forte, ridicolmente forte su tutto. Quindi avere questa progressione di forza su tutto quanto. E se il tuo 40RM su una pressa è un carico per cui la maggior parte dei neofiti è un massimale, allora, ragazzo, sei forte, vedi che avrai tanto stimolo ipertrofico da quel tipo di esercizi. Quindi, quello, quello è un po' il discorso del reprange ipertrofico. Il reprange ipertrofico è ogni reprange utile in cui tu devi diventare semplicemente fottutamente forte. Cioè, fai in modo che non ci sia un carico poco e ho tante ripetizioni o carico tanto o poche ripetizioni. Fai in modo che, sì, per carità, in senso relativo c'è, ma in senso assoluto tu carichi tanto su tutto quanto, sostanzialmente. Questo è molto semplice. Quindi, ricapitolando, neofita intermedio, discorso del reprange ipertrofico, va benissimo, può essere stretto. Nel neofita, quando i carichi sono bassi, possiamo lavorare su un reprange più basso. Nell'intermedio inizia ad essere un po' più spostato, quindi anche sulle 12 ripetizioni, ma quando inizia a diventare avanzato, quando lo scopo è quello di adattarsi per un palco di bodybuilding, l'obiettivo è quello di diventare fottutamente forte su tutti i reprange. Quello è l'obiettivo e lo scopo che devi avere, perché non tutto fa brodo, ma sicuramente ogni reprange utile è un'occasione per progredire, un'occasione per creare un'ipertrofia, creare un adottamento che poi rivederò sul palco. Ragazzi, con questo vi ringrazio. Qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere. i nostri canali ludovico.lem è super importante, ci date una grandissima mano e noi ci vediamo al prossimo video.